di qualcosa che è stato noto o ignoto o culto e celato nel corso dei secoli col nome di teurgia in realtà anche con altri nomi per esempio quella che una volta si chiamava alta magia cerimoniale che non ha nulla a che fare con la bassa magia con la magia popolare eccetera eccetera ma è semplicemente un lo studio dei metodi per connettersi con forze spirituali che vibrano su una dimensione dell'essere è diversa dalla nostra e più alta soprattutto gli angeli e gli arcangeli in realtà esistono una varietà di forze spirituali di cui comunque in questo momento non ci interessa neanche discutere all'interno di questa gamma di entità spirituali gli angeli occupano ovviamente un posto privilegiato diversamente da quello che si può credere gli angeli non sono un piccolo gruppo ben definito con un nome un inizio una fine in realtà sono entità innumerevoli non sappiamo realmente quanti sono esattamente e la stessa cosa in realtà vale come abbiamo visto per chi c'era per gli arcangeli però grazie alla tradizione occulta della teurgia sappiamo un po' di cose sicure sugli angeli in parte diverse dalle dalle robe che trovate sul web o che vanno di moda oggi la cosiddetta angelologia sappiamo che certamente sono suddivisi ripartiti in gerarchie sappiamo che si trovano che vibrano su piani dell'essere più o meno vicini o lontani da noi di questo c'è un riflesso nella loro collocazione l'albero cabalistico sappiamo soprattutto quello che più ci interessa in questo percorso che ciascuno di essi ha dei uffici dei compiti che svolge o come li chiameremo in questo percorso dei poteri noi possiamo chiedere a un angelo di agire per noi un suo potere e l'angelo risponderà positivamente e volentieri non perché voglia farci un favore men che meno perché sia costretto a farlo ma perché nel suo compito nella sua funzione naturale rispondere a una sincera chiamata da parte degli uomini purché questa chiamata abbia due caratteristiche la più importante che sia sincera di questo parleremo la seconda è che sia fatta con un metodo tale da aggiungere fino all'angelo e qui l'approccio teurgico fa la differenza perché noi come siamo abituati o non abituati ad arrivare agli angeli o con la preghiera per quel poco nulla che le nostre regioni hanno a dirci su queste figure spirituali la preghiera è un formidabile mezzo di connessione con i mondi spirituali a mio avviso ma presenta alcuni problemi è largamente dipendente alla forza dell'intento tanto per cominciare anche dalla misura della nostra fede inoltre non abbiamo modo di sapere di percepire se nostra preghiera è stata ascoltata e accolta abitualmente un'altra via un'altra via è quella della chiamiamola dell'estasimistica dell'ascesa e la via di molti santi di molti mistici ci si può elevare fino a una forza spirituale come un angelo? sì, si può è alla portata di tutti no no una terza via oggi ahimè molto diffusa è quella del cosiddetto channeling delle canalizzazioni trovate facilmente con una ricerca su Google le trascrizioni di cosiddette canalizzazioni con tale o tale altro angelo arcangelo l'arcangelo Michele che ne dice di ogni che commenta addirittura l'attualità o questioni come il Covid le vaccinazioni eccetera io sono molto rigoroso sul punto non è la mia via non è una via in cui credo credo che già l'esame di queste parole di presunta saggezza attribuita a un arcangelo come dire basta applicare un minimo discernimento rendersi conto del livello su cui siamo che non è particolarmente elevato inoltre il fatto che un arcangelo si scomodi a commentare vicende umane troppo umane o casi di cronaca nera o di dura politica non è qualcosa che mi fa desierare di avere di sviluppare un rapporto con un arcangelo nel senso che mi piace pensare che abbia bene altre cose di cui interessarsi quindi capisco che il channeling va molto in moda molti seguaci lungi da me diciamo interferire con le vostre opinioni sul tema ma sappiate che la teorgia è un'altra roba allora io dico chiunque può chiudere gli occhi e chiamare il nome di un angelo e percepire una risposta ma cosa stiamo percependo veramente? Quale essere sta dialogando con noi? Da dove proviene? Proviene all'alto dei cieli o dal basso astrale? È un angelo un'entità diversa? È una forma pensiero? È un'entità parassitaria? Che cos'è? Come facciamo a saperlo con chi stiamo comunicando? Qui le mie risposte sono due anzitutto gli angeli non comunicano parole di solito non comunicano parole quindi tutto un bla 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 angelico di tua richiede che sei trascritto per me non è troppo angelico la seconda e più importante il punto di forza è la teurgia cioè il metodo teurgico che è un metodo antico che deriva da una saggezza molto antica che si rifà alla traizione occulta cabalistica ebraica quindi parliamo di roba molto vecchia ma in realtà va ancora prima certamente al tempo dei misteri egizi parliamo di molte prove da parte anche di persone molto dotate degli ordini occulti degli ordini interni di quello che si faceva nel nascosto dei templi appunto nei misteri quindi persone che avevano anche una educazione alla allo sviluppo delle facoltà percettive al discernimento tra la vera e falsa percezione oggi tutti possiamo fare in cantesi mi parla con gli angeli facciamo quello che vogliamo questa libertà è bellissima però rischia di essere fuorviante no? allora una seria disciplina spirituale lo sviluppo dei cosiddetti organi di senso spirituale richiede moltissimi anni di lavoro peraltro anche noioso paziente ok? allora noi ci affidiamo a questo patrimonio di conoscenza quindi siamo sicuri che nel momento in cui noi con uno o qualsiasi dei diversi metodi che la teologia ci metta a disposizione cerchiamo di contattare l'arcangelo Michele o uno dei 42 angeli di cui parliamo in questo percorso qualsiasi altro angelo noi arriviamo effettivamente da Michele o dall'angelo a cui vogliamo arrivare anziché non si sa bene dove ok? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti